Teresa, due giornate intense anche per il FAI del Marchesato. Sì, siamo arrivati alla 31esima edizione delle giornate FAI di primavera e quest'anno la nostra delegazione ha dedicato l'attenzione al borgo di Caccuri. Questo borgo che appartiene al circuito dei borghi più belli d'Italia che è tutto da scoprire. È un bel borgo quello di Caccuri e nello stesso tempo c'è tanta storia. Molta, molta storia e saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo Classico Borrelli e dell'Istituto Tecnico che racconteranno ai visitatori. Quest'anno abbiamo anche la partecipazione dei ragazzi della terza media della scuola di Caccuri proprio per un coinvolgimento maggiore nella conoscenza di questo borgo. Sabato a che ora inizierete? Sabato siamo alla mattina, sappiamo già di avere molte scuole perché una delle funzioni del FAI è anche quella di trasmettere l'amore per il territorio. Domenica saremo tutto il giorno aperti per i visitatori.